Il centro di formazione per la pubblica amministrazione all'Aquila potrebbe sorgere negli spazi dell'ex Reis Romoli, questa è un'ipotesi, anche se da parte dei presenti nessuna conferma. Facciamo un sopralluogo, hanno detto, ma non è l'unica notizia la conferma della realizzazione del centro nel capoluogo. Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha incontrato prima i sindacati che stanno seguendo la vertenza del Contact Center IMSS e si è limitato a dire che in via di risoluzione la loro vertenza è in modo positivo. Oltre a questo ha annunciato la stabilizzazione dei precari che si occupano della ricostruzione del centro Italia. Sono quasi 500, sul territorio ne arriveranno più di 60. Tanti temi dell'agenda di oggi dunque del ministro Renato Brunetta in prefettura per parlare con le istituzioni locali del centro di formazione per la pubblica amministrazione che sfornerà dirigenti e che sorgerà in città grazie ad una parte delle risorse previste dal fondo complementare del PNRR. Un investimento per la scuola di circa 20 milioni di euro, ha aggiunto il sindaco Biondi. Il comune è soggetto attuatore per individuare la sede. Con Brunetta l'ex ministro Paola Severino che oggi dirige la SNA, la scuola nazionale dell'amministrazione che ha sede a Roma e a Caserta e di cui il centro Aquilano sarà una diretta emanazione, ma anche altri attori istituzionali. Perché siamo venuti a fare un sopralluogo per dar seguito alla volontà del presidente Draghi di collocare in questo territorio una scuola di alta formazione tecnica legata alla pubblica amministrazione. Abbiamo incontrato i sindacati, penso di aver dato loro una buona notizia, vuole dire che è in corso di soluzione tale vertenza mirante a stabilizzare questi lavoratori. Mi sono impegnato personalmente a seguire l'intera questione in legge di bilancio. In corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale il mio DPCM sulla stabilizzazione dei professionisti dell'Italia centrale, quelli che si sono applicati alla ricostruzione. Oggi siamo qui all'Aquila proprio perché si tratta di una sede nella quale la capacità di reagire al terremoto ha dimostrato quanta forza ci sia nel nostro paese. Dunque ripartire anche dall'Aquila proprio per una visione sugli enti territoriali e sui territori mi sembra, ci è sembrato davvero molto importante. Si tratta di una visita importante. La cabina di regia già sta lavorando, come ha ricordato il commissario Legnini. Le altre tappe di Brunetta sono state USRA e Sromoli appunto. Una mattina fitta di impegni che dimostra comunque l'attenzione sul territorio e la voglia di far presto per non perdere questa straordinaria opportunità. C'è stata questa conferma molto importante del ministro Brunetta e lavoriamo nei prossimi giorni insieme alla struttura di missione del 2009 e a tutte le istituzioni per concretizzarlo nell'ambito del fondo complementare al PNRR.